Il piano di contenimento dei cinghiali, molto atteso dal mondo agricolo, visto la benorme proliferazione di questi animali e i danni che causano alle colture, era stato avviato in provincia di Teramo giovedì scorso. Una situazione su cui però il presidente della provincia di Teramo ha deciso di fare un passo indietro, dando ordine di proseguirla solo utilizzando le guardie venatori dipendenti dell'amministrazione provinciale, e dunque senza avvalersi dei proprietari o dei conduttori di fondi ricompresi nell'ambito del piano di controllo e con espresso divieto in tal senso. Così scrive il presidente in una nota inviata al comandante della polizia provinciale, Fabio Di Vincenzo, e ai vertici della regione Abruzzo. Di Bonaventura dunque è deciso di rimandare la palla alla regione, ricordando che la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'articolo della legge regionale numero 10 del 2004, che autorizzava i cacciatori iscritti negli ATC ad eseguire gli abbattimenti in esecuzione del piano di controllo. E aggiunge tale decisione ha generato un'enorme confusione nell'individuazione dei soggetti di cui possono avvalersi le guardie venatori dipendenti dell'amministrazione provinciale, nonché sui limiti territoriali entro i quali si possono operare e sui presupposti che devono sussistere al fine di essere impiegati. Il presidente di Bonaventura ritiene estremamente necessario che la regione, con apposito atto deliberativo, si esprima con carezza in merito specificando in particolare chi siano gli operatori abilitate e quali siano gli ambiti territoriali in intervento, entro i quali gli stessi possono operare. E' proprio per cercare di fare luce sulla situazione stato programmato un incontro per giovedì prossimo 30 maggio, con l'assessore regionale alla caccia Emanuele Imprudente.